L'autore del mandante Bertolini, se non ricordo mai, e praticamente in base alle leggi sulla regolazione, Bertolini sposta la sua rotta in atterraggio a Pisa per passare sulla verticale dell'incendio, perché questo prevedono le regole della navigazione, dopodiché avverte la torre di controllo di Pisa, dice, torre di Pisa, guarda che sotto di me c'è una nave in fiamme, dopodiché a questo punto la torre fa una cosa semplice, fa una triangolazione tra la posizione dell'aereo e l'orario della comunicazione e di salire esattamente il punto di salire. Il problema però è che questa comunicazione che il comandante Bertolini ascura di aver fatto, nei nastri che l'atnotica militare ha consegnato alla nostra turma, non c'è. Questa comunicazione non c'è. Non solo, ma andando a cliccare il naso in quelle comunicazioni dei ministri, scoprono altre cose interessanti. Per esempio, che il nastro che l'aeronautica militare ha consegnato alla magistratura non è il nastro originale, è una copia di tutte le piste delle varie registrazioni in serie che fa la torre di controllo, ma non quella del nastro originale. Addirittura la comunicazione che manda l'aeronautica militare ai magistrati è interessante, perché c'è un generale che scrive, guardate, rialleghiamo il nastro delle comunicazioni terra-bordo-terra, di tutti venivano in volo da quell'ora a quell'ora, e in più ci sono tutte le comunicazioni radio sui canali, canale 16, tutta una serie di canali, e vi trascriviamo noi, con l'orario in ore, minuti, secondi di ogni comunicazione, tutte le comunicazioni di interesse. Quindi hanno ascoltato il nastro, hanno trascritto tutto quello che è, segnando, ora questi nastri di registrazione della torre di controllo hanno una banda magnetica laterale in cui non viene registrata nessuna comunicazione radio, ma il registratore in automatico incide per ogni comunicazione l'orario in ore, minuti e secondi. Nel nastro che è stato consegnato alla magistratura questa banda è vergine, e non si capisce, non si è mai saputo e non si è mai potuto scoprire chi abbia confezionato questo nastro, né nessuno ha potuto dare garanzie che in quel nastro ci fossero tutte le comunicazioni, e neppure nessuno ha chiesto spiegazioni a questo generale in base a quale criterio lui abbia deciso quali erano e quali non erano le comunicazioni di interesse da comunicare alla magistratura. Ripeto, come ho detto prima, certe cose secondo me non succedono perché capitano. Quando sono tante così succedono perché qualcuno le fa succedere. E come diceva giustamente il signore, le fa succedere, per farle succedere deve avere una capacità e un potere enorme di penetrazione sia negli ambienti civili che negli ambienti militari, perché c'è tanta gente che viene. Le volte anche se nei disastri di mare è difficile che uno abbia una visione complessiva, perché se non hai una strumentazione davanti non ce l'hai, devi solo un pezzettino della tua finestra, diciamo così. Però evidentemente per la velocità con cui sono state prese una serie di soluzioni, secondo me qualcuno che aveva la visione complessiva c'era il come. Forse mi sento lo stesso.